Mi piacerebbe che seguisse me, Victor e Scarlett in altre sedute. Oh ma che vuoi? La morte di Victor, ecco il percorso di Pocah. Signor Tony, io volevo parlare della pastilla di Pocah perché ci parto ieri sera. Allora, io non so assolutamente niente. Volevo parlare dell'unicito del signor Victor e della partita a cui lei è fatta. No, ma che senti. Mi lo vede bene, non la tengo. Te ne vado. Mi dica, è stata lei ad uccidere Victor? Ehm... Andi! Grazie a tutti i nostri spettatori! Autore dei sorrisi